Quali sono i parametri presi in considerazione per la valutazione del sentiment dei singoli post? Il nostro tipo di approccio è un approccio cosiddetto rule based, cioè abbiamo un motore di ricerca che raccoglie chiaramente i post, i messaggi in rete sulla base di quelle che sono le parole chiave che ci interessano, che interessano all'azienda per la quale lavoriamo. Dopodiché questi messaggi vengono sottoposti al vaglio di una serie di regole sintattiche, grammaticali che sono state definite dal nostro team di linguisti computazionali. A me piacerebbe capire come vengono gestite omonimia e polisemia. Allo stesso modo, nel senso che sono questo set di regole, c'è un modulo ad hoc nel nostro sistema che è votato proprio a risolvere questi problemi di omonimia e polisemia. Come fanno ad aggiornare gli algoritmi di interpretazione del linguaggio in un momento in cui la lingua evolve molto velocemente? Beh, lo fanno, come dicevo, questi linguisti computazionali in maniera manuale, diciamo. Nel senso che c'è una manutenzione che è costante, ma il problema non è tanto l'evolvere della lingua, è proprio il fatto che la lingua che noi parliamo sul web, quindi sui social media, ha delle caratteristiche, insomma, peculiari che la rendono un po' complessa da far digerire a una macchina. Come si fa a interpretare, per esempio, il sarcasmo o l'ironia di certi commenti che dicono una cosa ma in realtà ne sottintendono un'altra? No, ma infatti quello è l'aspetto più difficile proprio della sentiment analysis. Ci sono tanti studi, diciamo, a riguardo. Quello che si può fare, oltre a seguire un approccio, come ti dicevo, basato su delle regole, che però appunto viene aggiornato costantemente, si vanno anche a fare una serie di indagini a campione per capire se effettivamente la macchina sta comprendendo adeguatamente quel messaggio oppure no. Magari ha una percentuale di errore alla quale puoi cercare di rimediare invece con una lettura manuale. Mi sapresti dire quant'è questa percentuale di errore? Sì, ci sono due cose che bisogna distinguere. La difficoltà della macchina è soprattutto nei casi di analisi che non hanno un campo semantico ben definito. E in quel caso la precisione della macchina è stata accertata essere dell'84%. Mentre questo sul sentiment, sulla rilevazione invece dei sentimenti, si arriva all'88%. Quando invece il campo semantico è ben definito, la precisione va oltre il 90%. Ho letto diverso tempo fa un articolo che affermava che con un'adeguata analisi del sentiment su Twitter era possibile prevedere l'andamento delle borse con 5 giorni di anticipo. Quanto c'è di vero e quanto è possibile farlo realmente? Sì, sto seguendo questi studi. Chiaramente ce ne sono alcuni davvero in realtà poco convincenti, ma soprattutto quelli che hanno avuto un po' più di eco nella stampa ultimamente. In realtà però l'unica cosa che sappiamo è che esistono società che fanno questo di mestiere, quindi propongono proprio questi servizi. Però il problema è che è veramente, a mio avviso, complicato. Ancora noi non abbiamo fatto degli sforzi di questo tipo e so dai miei colleghi che si occupano di queste tematiche che è uno sforzo un po' difficile. Molto interessanti invece quelle ricerche che legano per esempio il successo al botteghino di un film al sentiment degli utenti prima dell'uscita dello stesso o immediatamente all'uscita del primo giorno di proiezione. Quelli magari sono dei fenomeni più attendibili di correlazione. L'andamento dello spread è desumibile dal sentimento misurato su Twitter? Ripeto, sono molto cauto, non sono proprio un esperto ma non avendo appunto sperimentato questa cosa direi che mi viene difficile legare i due fenomeni. Qual è il social che preferisci e perché? Probabilmente non c'è un social network che preferisco. Sono legato a Facebook perché insomma ho iniziato a studiarlo tantissimi anni fa quando in Italia ancora veniva un po' snobbato e veniva un po' considerato come un social network per ragazzini ma in realtà non c'è uno preferito, utilizzo indistintamente Facebook, Twitter, Google anzi per il mio lavoro mi piace proprio testarne più di uno e capire quale può essere adeguato a diversi momenti o diverse attività che svolgo. In quale direzione stanno evolvendo i social network? Verso un modello globalizzato con l'utilizzo di poche piattaforme comuni ad ogni latitudine o verso un modello maggiormente glocalizzato in cui le peculiarità culturali locali e territoriali giocano un ruolo predominante? Beh, mi sembra che il primo modello sia quello che si sta diffondendo di più e attraverso anche la mia mappa dei social network quello che viene fuori di fatto è che sempre di più esiste un leader forte di ogni nazione che al momento nella maggior parte dei casi coincide con il social network più grande che è Facebook io penso che ci sarà sempre spazio per social network locali che sappiano interpretare bene le esigenze di una determinata popolazione e quindi accanto a Facebook probabilmente ci saranno persone che utilizzeranno anche il social network locale d'altronde se parliamo a livello invece globale gli stessi Twitter e LinkedIn non stanno morendo a seguito del grande boom di Facebook ma vivono proprio perché riescono a trovare una nicchia di collocamento che magari altri social network non hanno trovato e quindi ci saranno persone che non hanno trovato